eccoci arrivati al campo di casumaro per il quarto appuntamento di campionato di promozione si entra di là ma Fabio va dalla parte opposta perché lui è in controtendenza guarda la mano a mettere le cose sugli spalti eh sì ma dagli spalti si entra di là allora io seguo voi andiamo e perché non rilascio le interviste oggi fa? motivi dall'alto magari singolarmente possono anche esserci squadre più forti però sono proprio una squadra compatta, difficile da affrontare quindi veramente ogni squadra possa mettere in difficoltà anche quelle che puntano a vincere il campionato niente anche se è una squadra non promossa e non ci sono stati magari troppi innesti sono comunque gran parte della squadra dall'anno scorso comunque è un bel ambiente, è un bel gruppo è una bella squadra secondo me la nostra secondo me anche il fatto che possiamo giocarci ogni partita aiuta comunque ad essere motivati e a fare un bel campionato ma magari come gli anni scorsi fatto da essere un po' scuola da ultimi posti è normale che cala la motivazione la volta scorsa è beccato l'1-0 però questa volta cosa becchi? risultato e marcatore voglio allora secondo me da X oggi perché sono due squadre che oggi vogliono vincere pensano di essere superiore all'avversario e può finire 1-1 o 2-2 dico 1-1 marcatore è lui con l'assenza di Badier tu saresti secondo me il sostituto naturale e a fronte di questo ti chiedo secondo te oggi avrei più spazio? no queste domande non rispondo anche perché questa sta diventando un'intervista veniamo dalla settimana della vittoria contro Moscardelli alla 100 tiri tutti coloro che ti hanno fatto i complimenti non sanno che hai vinto a culo quindi diciamolo questo Moscardelli con la sua qualità ero da farne di più è un po' una giornata nuova secondo me per lui per me è anche merito mio che comunque sono riuscito ad approfittarne a fare un'ultima serie fatta bene te la stai tirando un po' eh ho detto che sono passato perché Moscardelli non è stato il suo top perché altrimenti non avrei avuto possibilità tra l'altro oggi finalmente c'è una tribuna quindi potremo riprendere la partita un pelo meglio rispetto alle ultime volte perché voi non siete felici di vedere la partita direttamente all'altezza campo ma anche io non sono felice di riprenderla da lì quindi oggi siamo in tribuna con Fabio che ci darà una mano a montare tutto prima di andare negli spiegatoi momento fashion vlogger Francesco Pio e Di Mauro e allora eccoci alla quarta giornata del campionato di promozione Girone C Casumaro con Sandolo il Consandolo per proseguire sulla striscia positiva ha trovato la vittoria nell'ultimo incontro e vorrà continuare su questa strada il Casumaro per trovare il quarto risultato utile di fila visto che è reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro la Portuense si entrambe le squadre non hanno iniziato male il loro campionato il Consandolo ha trovato 3 punti nelle prime 3 gare mentre il Casumaro ne ha trovati 5 vediamo oggi chi avrà la meglio un match anche equilibrato secondo me il Consandolo arriva bene a questa partita vediamo se riuscirà a continuare sulla buona striscia dell'ultima partita qualche dato su questo match il Consandolo ha incassato 4 reti nelle prime 3 giornate anche a fronte di questo oggi sarà una partita equilibrata però la formazione allenata da mister Andrea Di Rani dovrà rettificare qualcosa soprattutto nel reparto difensivo si anche in quello offensivo comunque perché ha trovato solo 2 gol in queste prime 3 gare quindi dobbiamo vedere anche se riuscirà a trovare qualche via diversa lì davanti magari manca un riferimento pisso come abbiamo detto prima con Fabio non c'è un vero e proprio centravanti vediamo se però comunque gli altri attaccanti riusciranno a trovare la rete o magari a portare la vittoria ancora una volta in casa del Consandolo e che poi a proposito di reparto offensivo il Consandolo ha acquistato in questa settimana proprio un giocatore una punta centrale di riferimento vediamo anche se oggi Fabio avrà un po' più di spazio te, cosa ti aspetti? sì, chiaramente è una situazione un po' particolare dobbiamo vedere se Fabio riuscirà ad avere il mitotaggio oggi per me potrebbe partire titolare data l'assenza di Badier che sicuramente ha le caratteristiche diciamo un po' più simili a Fabio all'interno del gruppo è un giocatore anche lui di velocità più brevilinio e che riesce magari a creare superiorità numerica quindi potrebbe partire anche titolare però vediamo comunque quelle che saranno le scelte del mistero oggi come cambierà la formazione è vero, purtroppo Badier si è infortunato in allenamento in uno scontro con Giovannini come sottolineava anche tu poco fa quindi oggi vedremo come giocheranno le due squadre anche considerato che cambiano spesso moduli e quindi ci saranno tante indiscrezioni tecnico-tattiche ad ogni partita detto questo noi adesso andiamo a sistemare le cam a prepararci per assistere a questo match valevole la quarta giornata di campionato e poco altro da aggiungere andiamo Fre? andiamo e allora eccoci ragazzi abbiamo finalmente terminato di sistemare tutta l'attrezzatura abbiamo scoperto che Fabio anche quest'oggi partirà dalla panchina speriamo faccia bene nei minuti che avrà a disposizione e se avrà a disposizione minuti in ogni caso mancano pochi istanti all'inizio di questo match le due squadre sono all'interno dello spogliatoio per fare il riconoscimento dall'arbitro e poi dopo si darà il via al match valevole la quarta giornata Casumaro con Sandolo andiamo a vederlo e allora benvenuti in fase di telecronaca per assistere assieme a quella che sarà la quarta giornata del campionato di promozione Girone C Casumaro con Sandolo si oggi è sicuramente una bella partita tra due squadre che sono equilibrate vediamo se con Sandolo riuscirà a continuare sulla buona striscia e sulla vittoria ottenuta con lo Junior Corticella dall'altra parte il Casumaro ancora imbattuto in questo campionato eh sì Casumaro 5 punti in classifica sta davvero facendo un bel campionato fino ad ora il con Sandolo deve ritrovare le certezze ottenute nell'ultimo incontro dopo una partenza un po' turbolenta ed ora andiamo a scoprire quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo partiamo dai padroni di casa che schierano saccenti in porta difeso da Franceschini Ribello Benini e Farina a centrocampo Minarelli Bini e Barbieri in attacco il tridente vinci Nicoli Daniel dalla parte opposta invece per il con Sandolo troviamo lesi tre pali difeso da Brandolini Trentini Gagliani e Ambrosecchia a centrocampo Mazzoni Rimondi Morona sulla tre quarti Giberti a sostenere Colombani e il nuovo acquisto Colino c'è tanta curiosità attorno a lui vediamo come si comporterà sì tra l'altro ci sono anche ben quattro cambi di formazione in totale del con Sandolo e anche 3.2004 in campo sicuramente un segnale importante da parte del mister è cominciata ora la partita con Franceschini ad allontanare i pericoli bello il cross qui messo al centro d'Ambrosecchia ma siamo già dalla parte opposta con Benini che punta l'uomo fa fuori secco Morona si sovrappone bene Daniel il cross messo al centro per Vinci lesi a dire di no e poi attenzione ancora lì la palla è viva Ambrosecchia allontana i pericoli Rimondi cerca di tenere vivo questo pallone che si stava perdendo in fallo laterale poi i minarelli così e così capisce tutto Mazzoni che va a rilancio lungo lunghissimo Colino col tacco lo sto perentato a bruciare la difesa avversaria attenzione Colino vis a vis con Saccenti Colino ancora il destro la parata incredibile da parte di Saccenti e poi molto bene Bini ad anticipare l'arrivo di Colombani rivediamo qui si bello tutto bello questo intervento da parte di lesi perché la palla gli rimbalza davanti non era assolutamente facile però Piembrosecchia a spazzare dall'altra parte ottimo intervento del portiere tiro a mezza altezza però molto portente da parte di Colino che ha fatto uno stop in seguire spettacolare a metà campo bella giocata si sta subito facendo vedere il numero 10 classe 94 intanto Rimondi a mettere la palla al centro per Giberti Saccenti lo anticipa e poi attenzione Colombani ancora una volta Saccenti a bloccare la sfera qui rischia tantissimo il Casumaro intanto fallo laterale con Farina ancora in possesso gioca con Daniel che cerca di accentrarsi il destro velleitario senza troppi pericoli si perde sul fondo Gaiani va lunghissimo cercare Giberti fa la sponda dentro Colombani Franceschini si rifugia ancora una volta in calcio d'angolo ma è buona la pressione in questo frangente del consando lo morona dentro Colombani bello lo stop orientato il cross messo al centro Farina glielo impedisce rimessa laterale ma siamo ancora lì con Bini che riceve sul fallo laterale cerca di avere la meglio gioca questo pallone al centro Lesi la tiene lì intanto vediamo anche le indicazioni di Mr. Dirani quando è calcio d'angolo con Minarelli sul punto di battuta che si accinge a mettere questo cross al centro a cercare Ribello la palla scorre non ci arriva nessuno ci arriva invece Farina il suo destro nello specchio della porta non è ben appostato Lesi a neutralizzare così il tentativo del numero 6 intanto Brandolini va lunghissimo ottimo lavoro di sponda da parte di Colino che alleggerisce per Giberti l'imbucata direzione Colombani e neanche segnalato qui un offside comunque ottima l'uscita da parte di Salcenti intanto ancora una volta Bini uno sguardo al centro il cross messo morbido Rimondi devia involontariamente Malesi è ben appostato ancora una volta Giberti colpetto cerca la sventaiata al centro direzione Colino allontana Franceschini la palla è ancora viva però perché Mazzoni riesce a riconquistare il passaggio però sanguinolento conquista un pallone importante qui Nicoli che cerca di sprintare ma se lo va a riprendere sempre Mazzoni in collaborazione con Gaiani dunque Morona Giberti bello qui lo scambio tra i due a favorire ancora una volta Gaiani che sfida in uno contro uno Benini cerca di farlo fuori le finte il doppio passo a cercare l'inserimento anche di un compagno toccato l'arbitro lì a due passi dice che si può proseguire e poi Giberti commette il fallo ai danni del centrocampista del Casumaro si è contatto un po' lieve penso che la scelta del direttore di gara sia giusta perché comunque non c'erano secondo me gli estremi per calcio di rigore però bella la giocata di Gaiani che ancora una volta molto attento a recuperare a prendersi questo bruttissimo l'intervento qui di Daniel che si prende anche il primo cartellino giallo di questo incontro dritto sull'uomo bene ancora una volta l'anticipo di Gaiani un crescendo di prestazioni per lui in questo campionato sicuramente importante ma seguiamo ancora una volta Benini il cross messo al centro Lesi non perfetto attenzione la palla è ancora viva Ambrosecchia però se la cava magicamente poi in buca direzione Colombani che torna ancora una volta ad Ambrosecchia bello lo scambio adesso cerca di uscirsene bene il consandro è tutto solo Colino Giberti preferisce tornare ancora una volta ad Ambrosecchia scelta non propriamente adatta in questo caso si è più che altro intanto la palla messa al centro per Vinci che per un pelo non trova lo specchio della porta e anche la rete dell'1-0 Ambrosecchia lunghissimo a cercare Colombani anticipato da Ribello non perfetto capisce le intenzioni Giberti che prova a sprintare ancora Gibo allarga bene sulla fascia dove trova Colombani che si è defilato un po' troppo in cross al centro per un pelo non ci arriva Colino metà tra un tiro in cross in questo caso per Colombani ma si conclude così la prima frazione di gioco si abbiamo visto comunque una bella partita diverse occasioni da una parte dall'altra però le reti sono ancora bianche vediamo come nel secondo tempo cambierà il risultato e allora eccoci al termine dei primi 45 minuti di gioco il punteggio dice Kasumaro 0 con Sandolo 0 una partita in cui le occasioni sono state veramente tante fre ma si rimane ancora sul punteggio di parità totale si stiamo vedendo comunque una bella partita entrambe le squadre per me stanno facendo un buon match è sicuramente ancora nello stato di equilibrio come certifica il risultato una buona partita vediamo anche la parte del con Sandolo mi sta piacendo anche la prestazione da parte di Corrino che tiene sulla squadra è bravo a fare sporterate con i difensori si vede che è un buon innesto per il con Sandolo vediamo se nel secondo tempo riuscirà anche a trovare la sua prima marcatura con questa nuova maglia eh sì comunque il numero 10 del con Sandolo è stato prelevato dal Zampaimola che milita in eccellenza una bella prestazione la sua forse il migliore in campo del con Sandolo intanto Fabio è ancora in panchina quest'oggi secondo te entrerà? sì è comunque facile che Fabio entri nel corso del secondo tempo stiamo vedendo comunque una partita che potrebbe favorire il suo ingresso in campo ci sono anche Colombani e Corrino per la punta Ammoniti quindi vediamo se gli verrà riservato dello spazio prima però ad entrare secondo me Gentili che ho visto che ha comunque intensificato il riscaldamento negli ultimi minuti del primo tempo e allora andiamo a vedere assieme la seconda frazione di gioco andiamo bentornati con noi per seguire assieme questi secondi 45 minuti di gioco buona prestazione del con Sandolo anche quella del Casumaro vediamo chi la sbloccherà prima intanto Bomber Colino un'impressione su di lui Fred? sì bella partita la parte del con Sandolo e anche di Colino sicuramente si vede che un attaccante con tanta esperienza si muove sempre molto bene adesso a proposito di esperienza servito da Brandolini aveva centrato lo specchio della porta però l'assistente è ben appostato ha segnalato l'offside sì fuorigioco che evidentemente c'era però ancora una volta bello il movimento della parte di Colino che si dimostra veramente un Bomber adesso cerca ancora di muoversi nella maniera più idonea possibile all'azione servito da Colombani il numero 10 però ancora una volta pescato in fuorigioco Giberdi allarga dentro per Rimondi che pensa al destro in due tempi Saccenti riesce ad arpionare la sfera anche prima dell'arrivo proprio di Colino Mazzoni palla lunga a servire Colombani Saccenti ancora una volta esce buona all'editura meno però il rinvio sì però ha fatto quello che serviva intanto si scaldò anche Fabio è importante che porti lì si attento ed esca perché la difesa comunque rivolta con le spalle verso la propria porta intanto vici messo un pallone bellissimo per Daniel Brandolini però qui fa un lavoro incredibile difensivamente parlando Rimondi cerca la palla al centro a servire Trentini la palla rimane viva Giberti alta non inquadra lo specchio della porta ci ha provato così il classe 2002 con la 11 palla lunga servire ancora una volta Nicoli che cerca l'imbuccata per Daniel la palla passa non ottimo il lavoro di Trentini dunque in un qualche modo Bini la finta molto bene su Gaiani cerca la finta anche su Morona che non ci casca e con la collaborazione dello stesso Trentini che aveva sbagliato in precedenza riesce ad acquisire il possesso per il Consandolo adesso Rimondi dentro la palla per il numero 10 che non riesce né a tirare né a crossare si dispera Colombani al centro che avrebbe voluto questo pallone si non ha neanche impattato bene secondo me Colino la palla gli è un po' saltata e non ha trovato un impatto felice bel movimento ancora una volta bella occasione da partire con il Consandolo intanto è entrato con la 16 per il Casumaro prova a sfidare la difesa ancora Cla buono il numero su Morona Cla fino in fondo un sontuoso Cla grande la giocata a servire poi sulla sinistra il numero 9 Nicoli si gonfia la rete si porta in vantaggio il Casumaro con la seconda rete stagionale da parte di Nicoli qui una dormita generale però ottima la mossa da parte del mister Massimiliano Testa di inserire Cla che svolge la giocata più pericolosa di questa partita fino ad ora e porta in vantaggio il Casumaro si molto bravo Cla che subito molto bravo in questa incursione centrale poi serve bene il suo compagno Nicoli sulla fascia sinistra che è bravo di insaccare tra l'altro questo Trentini che ha deciso di non intervenire perché da lì chiaramente se tocco il pallone hai la certezza che finirei rete però c'è finito lo stesso dai 1 a 0 per il Casumaro intanto Rimondi a servire in profondità Collino messo Giuda Ribello attenzione il direttore di gara mano nel taschino cartellino rosso cartellino rosso qui per il Casumaro ha qualcosa da ridire Francesco Ribello che recrimina il non essere l'ultimo uomo rivediamo qui cosa è successo però dal replay si sicuramente il fallo ce l'ha trattenuto evidente però c'è da stabilire comunque come Collino non vada ad attaccare frontalmente la porta e c'è anche la possibilità che forse Franceschini ritorni su di lui forse il rosso è un po' troppo ci poteva stare però forse già l'era meglio intanto Collino il destro sporcato dalla barriera Saccenti la tiene lì adesso con questi ultimi 20 minuti di gioco il Consandolo deve spingere sull'acceleratore per pareggiare lo sa Rimondi che va da Collino il destro e arriva la firma del bomber Collino alla sua prima presenza con la maglia rosso-blu riesce a gonfiare la rete e ristabilire le gerarchie della parità si bel gol da parte di Collino che comunque è stato lasciato troppo solo in mezzo all'aria riesce a stoppare a controllare e a girarsi per battere il portiere bel gol attaccante puro ma sicuramente ci sono delle responsabilità da parte della difesa questo è un gol importantissimo per il Consandolo che dà fiducia anche a seguito dell'ultimo risultato utile 1-0 col Cortice intanto le ultime indicazioni di Dirani per Fabio che sembra pronto a fare il proprio ingresso in campo ma siamo già dalla parte opposta con Brandolini Morona rischia un po' qui il Consandolo poi è arrivato anche Barbieri a cercare di infastidire la retroguardia difesa da Capitan Trentini intanto Minarelli la palla messa al centro non ci arriva nessuno e poi scorre la palla in fallo laterale intanto è pronto ad entrare Fabio Di Mauro con la 20 esce Colombani quando mancano ormai due minuti di gioco al termine di questa sfida si vediamo il contributo che Fabio riuscirà a dare in questo ultimo frangente sicuramente ci sono anche un po' più di spazi data l'espulsione ma comunque Casomaro ha reagito bene anche dopo il pareggio nonostante appunto i 10 uomini tanto tocco ora il suo primo pallone Fabio che lo alleggerisce all'indietro per Ambrosecchia che va lunghissimo la palla a direzione Baglietti offside segnalato ancora una volta dall'assistente Ambrosecchia palla lunga con Fabio che battaglia con i difensori e dell'altra squadra rimessa in gioco ancora una volta per il Casomaro intanto cerca questa incursione il centrocampista a direzione Clà in questo caso Gagliani non ci pensa due volte anche perché manca pochissimo alla fine di questo match Baglietti cerca di proteggere questo pallone dunque ancora Ambrosecchia la palla messa al centro per Rimondi che va al destro sciupa malamente si lamenta anche i gentili perché era solo al centro e finisce così 1-1 al Merighi si abbiamo visto comunque una bella partita giusto come risultato secondo me il pareggio tante occasioni da una parte dall'altra forse con Sandolo poteva fare qualcosa in più quando il Casomaro rende 10 uomini eh si forse una superiorità numerica non sfruttata nella maniera di modi possibili Fabio è entrato anche tardi ma adesso andiamo a sentire le impressioni di fine partita ci andiamo a sentire e allora eccoci nel post partita di Casomaro con Sandolo terminato col punteggio di 1-1 bella la reazione da parte dei ragazzi di Mister Dirani che sono riusciti a recuperare la rete di svantaggio però avrebbero potuto fare sicuramente qualcosina in più a fronte dell'espulsione che c'è stata superiorità numerica sfruttata bene ma non benissimo si l'hanno sfruttata bene secondo me quella del Casomaro perché comunque andare in inferiorità numerica e poi tenere così testa non è facile hanno comunque creato dei pericoli o quantomeno si sono avvicinati verso l'area di rigore di Lesi poi non hanno calciato molto in generale nella partita non ci sono stati molti tiri però comunque abbiamo visto due bei gol soprattutto quello da parte di Corino il bomber il neo acquisto del Consandolo come dicevi tu nel primo tempo vediamo se riuscirà a timbrare il cartellino c'è riuscito un gol importante è stato secondo me il migliore in campo del Consandolo sì sicuramente è un giocatore molto importante lo si è visto già oggi è molto bravo nella fase di protezione del pallone trovo un grandissimo gol da bomber puro riesce a fare perno su se stessi a calciare verso la porta è un bellissimo gol secondo me e comunque ha già dimostrato di poter essere un giocatore veramente veramente importante per questa squadra è stato un acquisto per me azzeccatissimo per quanto riguarda Fabio invece oggi poco spazio lo andiamo a sentire andiamo a sentirlo eccoci quindi con Fabio al termine di questa partita insomma un parere generale su come hai visto i tuoi compagni di squadra oggi si poteva fare anche qualcosa di più secondo te? ma li ho visti bene sì si poteva anche arrivare alla vittoria però comunque è un pareggio importante con una squadra che comunque è stata molto ostica è stata molto equilibrata potremmo portarla a casa per le occasioni che abbiamo avuto però comunque non è da buttare è un pareggio sì tra l'altro ricordiamo che voi siete partiti con due sconfitte consecutive adesso due risultati utili di fila insomma vincere aiuta a vincere in questo caso a portare i punti il pareggio dove vedete e se secondo te l'obiettivo salvezza è sempre più raggiungibile visto queste ultime partite visto anche il campionato che è molto equilibrato per me possiamo benissimo giocarcela per buone posizioni al di fuori della zona salvezza quindi sì io confido nei miei compagni e sono fiducioso sul campionato che possiamo fare faccio il fatico ad essere lucido in queste occasioni in cui ho poco spazio però ci può stare cioè c'è poco da parlare dei due palloni che ho toccato noi ragazzi vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine vi ricordiamo di iscrivervi al canale attivare la campanellina mi raccomando fatevi sentire con il vostro supporto siamo quasi 100.000 iscritti quindi raggiungiamo questo traguardo ciao ragazzi